I morghi mi stai insegnando a usare la telecamera Ecco Puoi fare anche tutte le immagini sminchiate Ecco questa qua è un'immagine sminchiata No Sto preso da vicino Allora Picciola Guardate Alzati Sisto Così Guardate eh, stai lì Di profilo Di profilo Girati Questa è la persona Più somigliante a Gesù che esiste al mondo 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 Invece Gesù che è un passino Guardate questo Questo è un esemplare mai visto in giro Esemplare di Omerectus Stranissimo Chi ha parlato? No no Si copre Questo qua è un po' simile a quello di prima Va bene Ciao Va bene Così fa Rifai? Scusa E quando cominciamo Giorgantini E' la comica Siamo in Cade Alpina E' la bella Siamo in Cade Alpina Un primo piano è la macchia mezza Uno a Marco Uno a la Mimba Uno a Stefano Grazie E' la inglese di capposta Posso dare anche prima il menù? Prima c'è il finestore Sì che c'è la melle No Con le patatine Con le patatine E' di frutta Ma ce l'arrosto ragazzi Occhio Occhio Ci manchi Guardate la superenza negli occhi del marzo Occhio 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 Ciao Occhio Occhio Posso fare una cosa? Aspetta Posso fare una cosa? Ma poco si mangia? No, prima trovo il fettorio Sei buono! Un'esposione infelice della mia Siamo un po' infelicitata No, soltanto L'unica vista che sono pesca Faccio un po' giatto di 3-4 ore Da solo Invece l'acqua la vedo tanto associata al fettorio E' un po' che non si fa strumento Hai finito? No, sta morti! No, sta morti! Fa poco dovrete vedere se l'accia in bianco e nero Pizza, pizza, pizza La vedremo anche in color seppia Pizza, pizza, pizza Il negativo Pizza, pizza, pizza Il pastello Pizza, pizza, pizza Ancora il negativo È scappata da Ornella 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 ciao Guarda lei, lui ciò mi cambia da me Eh no, chi fa per te? No, Bruno No, chi fa per te? Ornella impegnata Ornella cos'è? Che salsina è? Una ripresa Cosa sei da mangiare? Tadà Eh io voglio panderla a Luisa Buongiorno Buongiorno Allora Buonasera Stiamo mangiando Anzi stiamo per mangiare Ma io mi chiedi oggi Guardate fuori come nevita Guardate fuori come nevita Ma forza ti riportati E ciò per guarda nostro Guardi nostro Guardi nostro Comunque nevita in una maniera impressionante C'è 8000 fiocchi anche a me Ecco, ci ha bravo Ciao Guardi 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 guardate come lavora di mestolo qua c'è la tecnica ciao ragazzi adesso vado a eseguire i miei bisogni fisiologici eccoci qua belli rimpinzimiti la mia bella ferita guardate tutti qua che ruotano sguardo si sta facendo un primo piano che guarda del dito dell'aereo grazie 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 grazie